Come ha potuto un Mosè risvegliare nel popolo di Israele, che era in Egitto, questo desiderio per uno scopo superiore. Tramite le difficoltà, i problemi. All'inizio vivevano molto bene, ma in seguito ebbero vita difficile. Il Faraone ricolpiva, non era concesso loro vivere. Conducevano una vita veramente misera e poi i dieci colpi, le dieci piaghe, finché fuggirono nella notte. Una buona vita, quindi, non aiuta a connetterci. Per questo motivo ci viene data una brutta vita. Questo porta a farsi delle domande. Capiamo subito, quando abbiamo una brutta vita e dobbiamo connetterci, e lo facciamo, oppure preferiamo essere testardi ed insistenti, così non ascolteremo e non capiremo cosa ci sta dicendo la saggezza della cabola. E così facendo, attireremo i colpi su di noi. Lei pensa che potremmo trovare la connessione senza i colpi, senza le dieci piaghe? No. 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 Noi non possiamo trovare la connessione tra di noi senza i colpi. Ma dipende da che tipo di colpi. Anche in questo momento stiamo patendo dei colpi. I nostri ragazzi nei campus statunitensi patiscono i colpi. Loro non stanno tanto bene. Semplicemente non puoi camminare per la strada se le persone capiscono che sei ebreo. In alcuni posti potrebbero anche ucciderti, eccetera. Questo è solo l'inizio e può diventare molto peggio. Quindi è un bene evitare i luoghi pericolosi, ma fondamentalmente siamo all'inizio della nazione più odiata. Tutto. Noi siamo incolpati di tutto. Siamo il capo espiatorio per qualsiasi cosa. Tuttavia possiamo trasformare la nostra vita in qualcosa di degno. Possiamo diventare più onorati degli altri perché attraverso di noi nel mondo ci gireranno pace, tranquillità, ricchezza e felicità. Gli ebrei possono farlo. È questo che ci rende speciali. A presto.